Questi giorni ad Ivrea gli appassionati di cavalli, esperti nazionali e internazionali sono presenti ad ammirare questi attacchi e non per niente la presenza del gruppo italiano attacchi con il suo presidente Ingegner Calvi ne è testimonianza della stima e dell'ammirazione che il carnevale di Ivrea con il suo attacchi con la presenza internazionale e internazionale bellissimo come gli altri questo 0-4 e bellissima anche la coreografia di tutti gli occupanti il carro allegri Grazie